Oggi, grazie alla domanda intelligente di uno scriba, Gesù ci rivela il comandamento più importante e ascoltiamo cosa ci dice padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana! Buona Pasqua della settimana a voi, ci ritroviamo dopo la bellissima festività di tutti i Santi che siamo stati invitati a fare questo cammino per entrare a Gerusalemme e il Vangelo di oggi ci porta a Gerusalemme. Gesù lo abbiamo lasciato nelle domeniche precedenti, abbiamo lasciato con l'ultimo episodio con Bartimeo, poi al capitolo 11 è entrato a Gerusalemme e come è successo all'inizio della sua vita, in Marco 2 fino al capitolo 3, versetto 6, praticamente che cosa è successo? Che qui ha avuto delle discussioni con le guide religiose. C'è una sorta di confronto continuo, anche prima col tributo, a chi bisogna dare questo tributo? È giusto pagare la tassa a Cesare e Gesù ha dato davvero, ha fatto sia con i farisei che con i sadducei, ha discusso, con i sadducei ha discusso su quell'episodio della donna che sposa ben sette mariti perché gli muoiono tutti. È un caso giuridico ma col quale Gesù vuol far capire quanto sia importante che la vita risorta è tutta un'altra cosa rispetto a quella che possiamo pensare. Ora dopo tutte queste discussioni, dice Marco, c'è stato uno scripa che avrà ascoltato tutto quello che Gesù ha detto in queste discussioni. È un dottore della legge, lo chiama Matteo, anche Luca, udendo queste discussioni è rimasto colpito e si avvicina per interrogare Gesù. È interessante e l'oggetto della sua domanda qual è? Qual è il più grande di tutti i comandamenti? Se lo diciamo in modo più facile, quel versetto 28 di Marco, 12-28, qual è il primo di tutti i comandamenti? Cioè qual è il comandamento assoluto che comanda tutti gli altri? Questo vuol dire che questo scriba non è tanto interessato a fare una sorta di graduatoria di tutti i comandamenti. Piuttosto questo scriba, questo studioso, vuole conoscere qual è il fondamento di tutti i comandamenti. Per dirle in parole più facili, qual è il cuore di tutta la legge? Questo cuore pulsante. Ricordiamo che la classe degli scribi era quella più avversa a Gesù. Già in Galilea lo hanno attaccato per ben cinque volte, ci ricorda Marco. E Gesù più volte ha dovuto discutere sul sabato sulle leggi di purità nel mettere al centro l'uomo dalla mano paralizzata. A Gerusalemme man mano gli avversari però sembrano più attratti, incominciano ad aprirsi perché notano che Gesù dà delle risposte sagge, profonde, che mettono davvero in riflessione. E qui questo scriba che certamente è un uomo di alta cultura religiosa, questo bisogna notarlo, è una persona che ha studiato, che conosce la legge, lo si vede anche dai suoi atteggiamenti, che è affascinato da Gesù. Si è messo in ascolto, prende coscienza pian piano di quello che ha sentito dalla bocca di Gesù. La domanda che pone a Gesù è molto forte ed è molto pregnante. A lui interessa conoscere il pensiero di Gesù, quale sia il fondamento di tutta la legge. Non dimentichiamo che al tempo di Gesù i comandamenti erano 613, una enormità, 365 che erano i famosi divieti, quanto i giorni dell'anno, 248 quanto sono le parti dell'uomo, norme positive. Era difficilissimo districarsi in 613 comandamenti. La stessa Mishna riscita qual è il comandamento che ha più peso di tutti gli altri. Quindi era una domanda che ci si faceva. Qual è il comandamento cardine? E Gesù risponde a queste aspettative. Evidentemente da Bostudioso questo scriva vuole sapere da Gesù, che è un grande maestro, qual è il suo pensiero. E il primo è, ascolta Israele. Il Signore è nostro Dio, l'unico Signore, lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E qui vorrei farvi notare che Gesù aggiunge con tutta la tua mente, con tutta la tua intelligenza. Quindi è interessante questa aggiunta che viene fatta nel Vangelo secondo Marco. Quindi c'è un quinto elemento. E il secondo, dice Gesù è, amerai il prossimo tuo come te stesso. E poi aggiunge, non c'è altro comandamento più grande di questo. È importante notare che Gesù nella risposta parte dall'ascolto. Ascolta Israele. Ripiglia cioè con lo Shema Israele, quella preghiera che ogni giorno il Pio ebreo recita, per indicare che prima di rispondere, prima di sapere qual è il cuore di tutta la legge, noi dobbiamo avere una relazione forte tra chi rivela Dio e l'uomo che deve piegare l'orecchio, come dice spesso l'Antico Testamento, piegare l'orecchio all'ascolto della parola. Cioè Dio vuole un uomo, vuole che gli uomini, le donne, pieghino l'orecchio. Quindi che si mettano in un atteggiamento di preghiera, di relazione, di ascolto. Ed è interessante che Gesù aggiunge questo secondo che verte sull'amore. Amerai il prossimo tuo come te stesso. In un certo senso, vedete, mettendo a confronto due norme che hanno in comune un elemento, si può interpretare una ricorrendo all'altro. L'espressione e tu amerai è molto rara nella Bibbia. Tre citazioni. A chi si riferiscono questi testi dove si parla di amare? Richiamano lo straniero. Quindi è come se Gesù volesse dire ai maestri ufficiali di teologia, che non uscivano mai dal loro contesto giudaico, di amare lo straniero, di aprirsi agli altri, a quelle che noi consideriamo dei lontani. Perché chi ama non conosce barriera né di cultura, né di razza, né di genere. Pensate alle barriere che in tutto il mondo si elevano oggi. Pensate alle barriere che ci sono ancora oggi, anche forse tra noi cristiani, verso lo straniero che non conosciamo, dimenticando che lo straniero è dentro di noi. Ognuno di noi deve conoscere lo straniero che ha dentro di sé. E lo scriba come reagisce? Non solo accoglie la risposta di Gesù, ma la prova e offre il fondamento biblico. Lui davvero si richiama quel testo stupendo di Osea che ogni tanto citiamo Osea 6.6. Dio vuole l'amore, non vuole il sacrificio. È l'amore la vocazione di noi cristiani. Ecco perché Gesù nota che anche lo scriba è molto saggio nel rispondere. Per cui davvero gli dice che non è molto lontano dal regno di Dio. È sulla buona strada. Non sei lontano dal regno di Dio. Vuol dire che sei un uomo che ha il cuore aperto, la mente aperta. E l'incontro con Gesù, l'incontro dello scriba con Gesù, diventa interessante anche per tutti quanti noi. Perché questo testo ci dice quanto sia importante mettersi all'ascolto della parola. L'autorità di Gesù colpisce questi studiosi. Erano stupiti del suo insegnamento, diceva Marco all'inizio del suo Vangelo, perché insegnava loro come uno che ha autorità, uno che ci sa fare, uno che la conosce la parola. E allora noi dobbiamo davvero da questo testo di oggi ricavare per noi quello che Papa Benedetto XVI diceva, l'intelligenza fidei, l'intelligenza della fede. E come Sant'Anselmo da Osta, che la viveva nella preghiera profonda, che ci apre alla realtà di Dio, a quella della storia, noi dobbiamo sempre ripartire dall'ascolto. È l'ascolto. Ascolta Israele. Ascolta tu che sei cristiano. Da quell'ascolto nasce l'amore. Perché solo una Chiesa che si fa evangelizzare continuamente dalla parola e dai sacramenti diventa una Chiesa che può evangelizzare. Dobbiamo sempre essere sotto il primato di Cristo per poter annunciare Cristo agli altri con la vita e con le parole. Mai come oggi è adatta questa pagina del Vangelo da ascoltare, da leggere e da approfondire, anche nella vita. Sì, dovremmo forse oggi recitare il Salmo 18-17. Quel Salmo che dice, Signore mia forza ti amo, Signore mia roccia, mia acropoli, mia liberazione, mio Dio e mia rupe, mio rifugio, mio scudo, mia potente salvezza, mia muraglia, oi Dio, te voglio lo dare. Dovremmo veramente oggi ringraziare il Signore che ci ha dato il cuore. Il cuore qual è? La vita che ha fatto Lui. Gesù ha vissuto e ha amato profondamente tutte le persone che ha incontrato e ha aperto delle vie di senso, come dicevamo nel giorno delle Beatitudini dei Santi. Quindi è un Gesù che ci apre una continua via di umanizzazione. Ma diciamo un'ultima cosa, cara Anna Maria. Noi spesso diciamo credere in Dio, credere in Dio. Noi cristiani dovremmo dire io credo in Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, perché noi arriviamo al Padre attraverso Gesù. Anche nella catechesi noi partiamo da Dio per arrivare a Gesù. È sbagliato questo itinerario. La chiave è partire da Gesù Cristo. Come dice la lettera degli ebrei, quel Dio che aveva parlato nei tempi antichi attraverso i profeti, ora ci ha dato una parola definitiva, Gesù Cristo. Non dimentichiamo che Padre Pio morendo continua a dire Gesù Maria, Gesù Maria. Quanto è dolce questo nome? Gesù, il Cristo, il figlio di Dio, l'umanissimo Dio. Ripartiamo sempre da Gesù. Lui è la via che ci conduce al Padre. Qui si potrebbe aprire un capitolo molto grande, perché qualcuno addirittura ha timore di pronunciare il nome di Gesù, o comunque ha vergogna, forse il termine è più giusto, si pronuncia più facilmente Dio. In realtà è da riscoprire cosa stai dicendo. La parola di Dio, Anna Maria, diciamole alle nostre amiche e ai nostri amici, è una parola anche pericolosa. In quale Dio crediamo? In quelle che vogliono fare la violenza? In quelle che impongono la religione? In quelli che fanno sopruso dominio? La parola Dio è generica e pericolosa. Noi usiamo la parola Gesù. Gesù è il figlio del Padre. Loro ci hanno dato lo Spirito Santo. Non dimenticate che il cristianesimo è una fede, non una religione. Tra l'altro è un monoteismo molto strano, perché quest'unico Dio è in tre persone, c'è una famiglia. E poi una delle tre persone addirittura si è fatto carne, uomo come noi. Per cui davvero la nostra è una fede. Fede in una persona. Noi crediamo in Gesù Cristo, il figlio di Dio che il Padre ci ha mandato. E padre e figlio ci hanno dato lo Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità. Riprendiamo più confidenza, direi, con Gesù Cristo. Ecco perché noi mettiamo i Vangeli al centro di tutta la Bibbia. E quando leggiamo anche l'Antico Testamento, usiamo la chiave di Gesù. Gesù che cosa ci offre per capire l'Antico Testamento? Quelle profezie portavano a noi. E quando leggiamo Gesù, vediamo in lui tutta la realizzazione dell'Antico Testamento. Quindi la figura di Gesù è centralissima nella nostra fede. Lui è l'oggetto della nostra fede, ma lui è anche il soggetto di questo Vangelo che è venuto a portarci. E noi abbiamo fede in lui, in Gesù. Grazie padre Ernesto a nome di tutti. Quest'oggi è una deliziosa puntata. Grazie e shalom. Grazie.